Allora, ma Fesenko diciamo che è in controllo, ecco perché di ti sta bene, ti dai una stupidata, di ti sta male pure, nel senso che è una gestione, la partita di Cremona, scusami, per dire di Pistoia, eravamo lì contando i minuti, cioè lui doveva farne non meno di 15 e possibilmente, se si poteva, non più di 18, ecco proprio per mantenere uno stato di forma senza che ci fosse un reacutizzarsi dell'infiammazione e credo che ci siamo riusciti a livello numerico. Oggi farà il suo allenamento, è chiaro che domani cercheremo di risparmiare il più possibile, è un po' la sensazione che ho avuto generale di ieri, di tutte le otto squadre, mi sembra che tutti ci credano molto e anche noi ci crediamo molto. Una squadra forte, Mio Sacchetti ieri, un po' come è nella sua persona, per me è adorabile sotto certi aspetti perché mi piace molto questo suo modo di sdrammatizzare tutto, alla fin fine lui ha sempre una squadra scarsa e invece io credo che lui c'ha Johnson Ordon, c'ha Martin, c'ha Melbourne, c'ha Sims che sta facendo un campionato pazzesco e poi ha degli italiani importanti perché alla fine sono in undici, con Portanese che è l'undicesimo, entra in rotazione insieme a Gazzotti, però c'ha Ruzziere e soprattutto c'ha Fontecchio che è un giocatore molto, secondo me che gli ha cambiato la faccia totalmente. L'aggiunta dei due dinner, quindi mi sembra che ci sia un roster molto buono e soprattutto un'intelligenza di Sacchetti nel farla giocare come giocano le sue squadre.